Nel video precedente avevamo lasciato a metà il discorso che Ettore rivolge ad Andromaca e avevamo sottolineato come la prima parte della sua risposta si concentrasse appunto a definire i valori che caratterizzano il guerriero e avevamo anche sottolineato come Cleos, la gloria, è per Ettore qualcosa di legato alla stirpe più che alla dimensione individuale. Riprendiamo a questo punto il discorso ripartendo dal verso 448 per dare una certa continuità, 447. Io lo so bene, dentro l'anima e il cuore, giorno verrà che Ilio sacra perisca e Priamo e la gente di Priamo buona lancia, ma non tanto dolore io ne avrò per i Teucri, non per la stessa Ecuba, non per il Sire Priamo e non per i fratelli che molti e Gagliardi cadranno nella polvere per mano dei nemici, quanto a te che qualche acheo chitone di bronzo trascinerà via piangente, libero giorno togliendoti. Allora, vivendo in argo, dovrai per altra tessere tela e portar acqua di Messeide o Iperea costretta a tutto, grave destino sarà su di te. E dirà qualcuno che ti vedrà lacrimosa, ecco la sposa d'Ettore, che era il più forte a combattere, fra i troiani domatori di cavalli, quando lottava in perilio. Così dirà allora qualcuno, sarà strazio nuovo per te, priva dell'uomo che schiavo giorno avrebbe potuto tenerti lontano. Morto, però, mi imprigioni la terra su me riversata, prima che io le tue grida, il tuo rapimento conosca. In questa parte del discorso, Ettore distoglie in parte lo sguardo dalla sua dimensione guerriera per ritornare alla sua dimensione di uomo e pronuncia parole rivolte innanzitutto alla sposa. Allora, andiamo a rivederle un attimo. Allora, lui afferma che il più grande dolore che potrà provare nel momento in cui Troia cadrà, non sarà tanto per i troiani in generale, né per la sua stessa madre, Ecuba, di cui tra l'altro possiamo aggiungere qualcosa. La madre di Ettore, sposa di Priamo, che ha dato al sovrano, che ha partorito ben 19 figli, fra cui anche il famoso paride causa leggendaria di tutta la guerra, entra in scena solo nell'ultima parte in maniera da reale protagonista, da madre dell'eroe. Qui compare nella sua dimensione di riferimento per l'eroe, l'eroe che pensa alla propria madre che sarà costretta a vedere la morte del figlio, uno degli eventi più innaturali nella vita umana, che un genitore debba vedere il proprio figlio perire. E questo dolore non è nemmeno per il padre, il sire Priamo, né per i fratelli, che saranno destinati molti e gagliardi, nonostante siano valorosi, in molti cadranno nella polvere per mano dei nemici. Ma la sua attenzione, il suo principale pensiero è proprio per la moglie, quanto per te, che sarai costretta, aggiunge nei versi successivi, a seguire qualche acheo, chitone di bronzo. Allora, chitone di bronzo è un epiteto, il chitone in realtà è una tunica, chitone di bronzo significa vestito di bronzo, che indossa una tunica bronzea, cioè l'armatura dell'esercito in armi. E appunto questo qualche acheo, non è ancora ben precisato chi sarà, trascinerà via andromaca, piangente, levandole il libero giorno, cioè levandole la libertà. Allora a quel punto il destino di andromaca sarà un destino di schiava, che viene descritto attraverso alcune azioni fondamentali e alcuni luoghi in cui andromaca potrebbe finire, potrebbe essere portata. Ettore, infatti, indica una serie di luoghi, Argo e Seide Perea, e quindi abbiamo colei che, allora, questi luoghi sono luoghi in cui regnano i vari principi greci che al momento si trovano sotto le mura di Troia per l'assedio. Innanzitutto la regina, la principessa andromaca, sarà costretta a tessere la tela per altra, cioè per un'altra regina, di cui sarà diventata la schiava. Ad Argo regna Diomede, mentre la fonte Messeide, l'acqua Messeide, è una fonte di Sparta e quindi si allude a Menelao, mentre la fonte Iperea si trova in Tessaglia, nella terra di Achille. In ogni caso, il destino di andromaca è un destino di lacrime e infatti viene utilizzato proprio questo termine, un grave, cioè un pesante destino incomberà su di te e qualcuno, tuttavia, se ti dovesse vedere schiava mentre piangi sulla tua sorte, potrà comunque dire, grazie al valore che io Ettore ho dimostrato in battaglia, ecco questa donna è stata la moglie di Ettore, il più forte a combattere quando lottavano per Ilio. Eppure, evidenzia Ettore, proprio questo ricordo del marito tanto glorioso potrà essere per andromaca un nuovo strazio, uno strazio nuovo per te, perché sarà proprio a causa, in un certo senso, di quell'uomo che non è riuscito a salvare la propria città e che avrebbe invece dovuto proteggere la moglie a destinarla alla schiavitù, perché è proprio Ettore che avrebbe potuto tenerti o andromaca lontana dal giorno schiavo, cioè dal giorno della schiavitù. Tuttavia, Ettore si augura un'ultima cosa, che rappresenta forse la sintesi del suo dolore, si augura di morire, cioè che venga imprigionato dalla terra versata sulla sua tomba, sulle sue ceneri, prima di poter conoscere le grida di dolore e il rapimento della moglie. Quindi la speranza di Ettore, che conosce assai bene quale sarà il destino della moglie se Troia dovesse cadere, si augura però che tutto ciò accada quando lui non potrà più vederlo. Aggiungiamo una notazione mitologica. Il mito racconta che Andromaca diventerà schiava del figlio di Achille, Neotolemo, che sarà protagonista di un episodio molto cruento narrato nell'Eneide di Virgilio. Successivamente alla morte di Neotolemo diventerà sposa di Eleno e principessa dell'Epiro. Questa è una delle dilatazioni del mito su cui non stiamo a soffermarci ulteriormente. Prosegue a questo punto l'episodio con un momento ancora più tenero, ancora più affettuoso. E dicendo così, tese al figlio le braccia, Ettore illustre. Badate bene che il soggetto è Ettore, quindi dopo aver detto queste cose, Ettore tese al figlio le braccia. Ma indietro il bambino, sul petto della ballia, bella cintura, si piegò con un grido, atterrito all'aspetto del padre spaventato dal bronzo e dal cimiero chiomato, che vedeva ondeggiare terribile in cima all'elmo. Sorrise il caro padre. E la nobile madre, e subito Ettore illustre, si tolse l'elmo di testa, lo posò scintillante per terra, e poi baciò il caro figlio, lo sollevò fra le braccia, e disse, supplicando a Zeus e agli altri numi, Zeus, e voi numi tutti, fate che cresca questo mio figlio, così come io sono, distinto fra i teucri, così gagliardo di forze e regni su ilio sovrano. E un giorno dica qualcuno, è molto più forte del padre, quando verrà dalla lotta, porti egli le spoglie cruente del nemico abbattuto, goda in cuore la madre. L'episodio è particolarmente dolce, perché terminato il suo discorso, Ettore si allunga per abbracciare il figlio, e siamo in questo punto, siamo qui. Ma il bambino, vedendo il padre vestito di tutto punto, con l'armatura guerriera e l'elmo in testa, elmo che in cima aveva un cimiero chiomato, cioè aveva dei crini di cavallo che adornavano l'elmo e davano al guerriero un aspetto particolarmente imperioso e anche spaventoso per certi versi. E in più questo elmo, ai movimenti del capo di Ettore, oscilla e oscillano i crini appunto collocati sulla cima dell'elmo. E il bambino non abituato a vedere il padre così vestito, si spaventa e si ritrae verso la ballia, verso la nutrice, la donna che lo allattava, con un grido e atterrito. Cioè rimane proprio spaventato come i bambini, quando non riconoscono degli adulti che nella comune vita quotidiana riconoscono e con cui hanno dei legami, tendono a fare. E allora a quel punto Ettore, chiaramente raddolcito, sorride e poi si toglie l'elmo in modo che il bambino lo possa riconoscere. Lo appoggia per terra e poi sollevando il bambino fra le braccia e baciandolo, implora gli dèi, Zeus in particolare, ma anche tutti gli altri numi, quindi tutte le altre divinità, prega affinché il destino di Astianate possa essere un destino di gloria, un destino appunto basato su quei valori che l'eroe stesso, che Ettore stesso, incarna. Implora infatti Zeus e tutti i numi che questo bambino possa crescere, distinguendosi fra i troiani, Gagliardo in forze, quindi come un abile guerriero e possa poi regnare sovrano, predicativo, su Ilio. E che un giorno qualcuno, un indefinito spettatore, un indefinito visitatore, possa dire di questo Astianate che addirittura è più forte del padre. E che possa proprio mentre spoglia un cadavere delle proprie armi, porti egli le spoglie cruente del nemico abbattuto, possa dare orgoglio, possa rendere la madre orgogliosa di sé. Anche qui vediamo come la figura della donna, andromaca in questo caso, la sua, come la figura della donna si identifichi attraverso un uomo, attraverso in questo caso il figlio. E che l'orgoglio della madre sia un orgoglio non per sé, ma generato dal figlio. Dopo che disse così, mise in braccio alla sposa il figlio suo. Ed ella lo strinse al seno odoroso, sorridendo fra il pianto. Si intenerì lo sposo a guardarla. L'accarezzò con la mano. Le disse parole. Parlò così. Di nuovo un'immagine che abbiamo già visto, il bambino viene passato nelle braccia della madre che lo stringe al proprio petto, lo tiene vicino a sé e sorride fra il pianto. Intenerita dai gesti del marito, ma nello stesso momento ancora addolorata per quello che sarà il suo destino. Ettore a quel punto si intenerisce nel guardare la moglie in questo gesto così affettuoso verso il figlio e verso il proprio marito. La carezza e comincia nuovamente a parlarle.